Allora, io domani sarò in grande difficoltà perché McKennie praticamente di fatto non sarà più un giocatore della Juventus, sono disperato per la sua cessione, non so perché mi si sta stampando un sorriso sul volto, deve essere una Emi Paresi dovuta al freddo che ho preso oggi, chiedo scusa. Pensate, ho dato la notizia al mio cane, Anakin, che tutti conoscete di fama e vi voglio far vedere la reazione che ha avuto quando gli ho detto che McKennie non giocherà più nelle Juventus. Dopo la reazione di Anakin continuerò questo video. Ecco a voi Anakin. Io non posso ululare come Anakin, però sappiate che il mio cuore è ricolmo di gioia perché avendo una certa età di giocatori ne ho visti tanti, buoni e meno buoni, brocchi e bidoni. Io credo che questo nella top ten dei bidoni sia fra i primi tre, insieme a Pacione e a Snyder. Poi ce ne saranno anche altri sicuramente che voi vorrete mettere nel novero, ma questo veramente è stato uno dei più grandi errori della Juventus. La cosa assurda è che questo giocatore che non sapeva stoppare la palla, non sapeva marcare, correva male, non era disciplinato in campo. È vero che leggo non dà dettami tecnico-tattici, però sono curioso di vederlo nel Leeds. Cosa farà? No? Sono curioso, anzi non me ne può fregare di meno. Tra l'altro ho già detto in live che il Leeds è di fatto diventata la mia seconda squadra del cuore perché mi ha fatto uno dei più bei regali che uno juventino che ama la Juve come me poteva ricevere perché questo giocatore, non vederlo più in campo per me, è ossigeno, è ossigeno per il mio cervello e soprattutto perché adesso si spera che chi giocherà al suo posto, chiunque sarà, chiunque sarà, è sicuramente nettamente meglio, è sicuramente nettamente meglio. Ora ragazzi, rimangono soltanto Sandro e Rabiot da far fuori. Rabiot vuole un sacco di soldi quindi probabilmente lo imbarcheremo a giugno e Sandro, se tutto va bene, non ci rinnovano il contratto neanche a lui e ci deriviamo dalle balle tutti e due. Quindi, di fatto, i tre Cavalleros non ci saranno più perché Moratas l'hanno imbarcato quest'estate, Rabiot e Sandro se ne andanno e il cespuglio di Horowitz, come io avevo soprannominato, sto in argomento, cicciottello che non sa giocare a calcio, detto anche hamburger, detto anche Tex-Mex dal mio amico Ludovico Longhi, alla Juventus non ci sarà più. Queste sono le belle notizie. Guardate, fra la pesantezza della penalizzazione dei 15 punti che mi ha reso triste e la felicità per l'accessione di McKennie, vi assicuro che la seconda è quella che mi dà, diciamo, più energia, più adrenalina, più stimolo. Perché, ripeto, io, McKennie, non l'ho mai visto, non un giocatore da Juventus, non l'ho mai visto neanche come giocatore di calcio. D'altra parte, esiste il calcio da tantissimi anni, è stato imitato fino ai 1800 dagli inglesi. Voi avete mai visto un americano che è capace di giocare a calcio? Alexi Lalas, che giocava nel Padova, famosissimo giocatore americano, era una rock star che suonava la chitarra, giocava nel Padova del mio amico Ludovico Longhi, ma non è che fosse tutto sto giocatore, ed era uno dei giocatori più forti mai partoriti dal calcio americano. Gli americani sono bravi, sono simpatici, sanno giocare a baseball, a football americano, a basket se sono alti. Questo qui è un tombolotto, un trombolotto, che non è buono né per il baseball, né per il football americano, né per il calcio. Questo è uno che deve mangiare degli hamburger o aprire una catena. Adesso lui che è diventato famoso grazie alla Juventus può aprire una catena di hot dog, di hamburger. Magari visto che vai in Inghilterra, che hanno un po' la mentalità anglosassone in stile americano, potrebbe veramente fare una fortuna. Apri un pub dove fai dei panini belli come tutte le schifezze che ci mettete dentro voi inglesi. Signori, che dire? McKennie non c'è più. McKennie non c'è più. Io sono veramente molto, molto, molto contento perché la Befana, nel video che ho fatto il 6 gennaio, ve lo ricorderete, Befana, portacelo via, ha esaudito i miei desideri. E quando un bambino della mia età ha un desiderio esaudito, non può che essere felice. Come vedete, lo è stato anche Anakin ed è un cane. Ma un cane che secondo me, se giocasse a calcio con McKennie, giocarebbe meglio il mio di cane, non lui. Ciao, ci vediamo domani. Forza Juve! Forza Leeds!